Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso TB Sport. Da oggi il Bari si allena direi in sede, ma non è giusto dire in sede perché l'antistadio non è ancora disponibile, va ad allenarsi in un campo qui, da queste parti insomma, va ad allenarsi in attesa che la situazione dell'antistadio migliori, poi dalla prossima settimana mi risulta che comunque andranno a Capurcio, quindi diciamo che al momento da oggi si allenano al Torino Rana a Carbonara, poi vanno a Capurcio e poi tornano all'antistadio. Allenamenti che si prospettano blindatissimi, così come è accaduto a Roma, c'è veramente un velo davanti al Bari che verrà. Di questo ed altro parliamo con un nostro amico, un ospite gradito Sergio Notariale che è allenato anche nel girone dove attualmente c'è il Bari, che esperienza è stata quella? Una bella esperienza, ho fatto quel girone in Serie D col Matera ed è un girone abbastanza, per la squadra che avevamo noi è stato un girone abbastanza difficile, specialmente le trasferte sono lunghe, si rientrava sempre la mattina del giorno dopo e quindi disagevoli sia per i tifosi sia per la squadra. Dal punto di vista tecnico invece? Dal punto di vista tecnico non è Celso sotto il profilo tecnico, è chiaramente agonisticamente acceso come girone, le squadre sono molto agguerrite, però è una favola dove si dice che non si può giocare, c'è un clima ostile, non è vero niente, si gioca tranquillamente con l'agonismo della Serie D, come è giusto, ma si può giocare tranquillamente, il Bari poi con la squadra che ha sicuramente farà una grandissima figura. 080 501 9998 per la vostra telefonata in diretta, c'è un amico in linea, pronto? Ciao sono Luca, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno. Due considerazioni, due risposte molto sette se è possibile. Io volevo sapere secondo voi quanto è fattibile la possibilità che chiudano le due curve per lo stadio, a mio avviso sarebbe una soluzione ideale perché il fatto che tutti noi i baresi iscriviamo, diciamo che saremo in tanti e in realtà poi saremo i soliti, spero, 10.000-12.000, quindi secondo me è uno stadio così grande, la soluzione, credo che anche tu ne hai parlato, sia la soluzione davvero ideale, c'è una curva, una est per il tipo più caloroso, una ovest per gente più tranquilla, sarebbe più che sufficiente a mio avviso per ospitare la categoria, anche le squadre che verranno in tutti gli occhi. Seconda domanda è secondo te se domani viene estilato un calendario della Lega Nazionale di Estanti, cioè viene estilato prima del verdetto del Coni, a mio avviso, e se voglio la tua opinione, grazie, a mio avviso è un secco no a una riforma campionata che la Lega Pro a 60 e quindi con una Lega Pro a 56 che metterebbe fuori gioco la riferimento del Bari. Beh, sul discorso delle due curve chiuse è un'idea, è un'idea, è un'ipotesi, diciamo che è un po' contrasta con il fatto che comunque De Laurentiis in conferenza stampa ha annunciato anche i prezzi delle abbonamenti delle curve, quindi evidentemente è un'idea che è sopraggiunta successivamente, cioè quella di limitare l'accesso ai tifosi nelle tribune est, ovest, oltre agli altri settori. Però staremo a vedere, è una questione anche di contenimento dei costi, di manutenzione dello stadio, anche di effetto televisivo, perché insomma se il Bari andrà in televisione è una cosa vedere un po' di tifosi sparpagliati intorno a tutto lo stadio, un'altra cosa è vedere invece assemblati negli stessi settori. Poi sul fatto che domani facciano i calendari, i calendari devono farli, non possono non farli, perché comunque anche per una questione organizzativa se uno deve andare in Sicilia deve prenotare i voli, deve prenotare qualcosa, insomma io non credo che questo faccia cazzotti con l'idea che possa esserci qualche colpo di scena. Non dimentichiamo che in B si è cominciata 19 squadre e se il collegio di garanzia del CONI dovesse decidere di riportare la B a 22 avremmo un campionato che è iniziato con le altre squadre che devono recuperare le partite, quindi da quel punto di vista io non credo che sia un segnale, è inevitabile che domani parta in qualche modo il carrozzone del campionato, i calendari bisogna farli prima o poi, anche perché il campionato inizia il 16, quindi non è che è lontanissima. E' una questione anche di rispetto per le altre squadre, non c'è solo il Bari in Serie D, stanno 9 gironi, stanno squadre di tutta Italia, quindi si devono organizzare, devono sapere quando, con chi e dove giocare, quindi è giusto che si facciano i calendari, però sono d'accordo con te, ciò non preclude un eventuale rimescolamento delle carte. Un colpo di scena clamoroso, perché comunque parleremo di colpo di scena, perché comunque l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, non c'è nessuna regola che permetterebbe al Bari di essere ammesso al campionato di Lega Pro, perché per ottenere il ripescaggio deve avere due anni di anzianità in un campionato, il Bari è come se fosse nato ieri, quindi questa anzianità non ce l'ha. Ci può essere una questione di ordine pubblico, ma anche lì credo che sia stata evidentemente bypassata anche dalla collocazione in quel tipo di girone, e poi può essere pure che, insomma, così come accade a volte nei provvedimenti persino dalla giustizia ordinaria, ci sia una sorta di grazia che possa favorire in qualche modo il Bari. Ma parliamo di ipotesi, io continuo a dire piuttosto remote, sono d'accordo con quello che dice Sergio Notariale, da come ci si sta muovendo mi sembra di capire, insomma che sono ipotesi che si sono affiduiti. Un po' sì, è un po' difficile, secondo me, rimescolare il tutto, anche se nel calcio di oggi, devo dire, con rammarico, nel tutti contro tutti, tutto è possibile, ci possiamo aspettare veramente qualche colpo di scena, però è molto difficile, d'altra onda come hai detto tu, il Bari ha poche possibilità, perché se vogliamo poi mettere che ci sono anche le altre squadre che ambirebbero al ripescaggio e quindi secondo me è difficile, però non ne espruderei completamente. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, un saluto al mister notariale. Ciao. Buonasera, è attenso, comunque la squadra del Bari la dobbiamo mettere in città al pubblico, perché devono conoscere i nuovi giocatori, li dobbiamo caricare i giocatori, non brindati come hai detto poc'anzi, devono stare in città, perché il pubblico li deve applaudire. Grazie per il tuo intervento, io credo che i tifosi del Bari che stanno sopravvivendo anche a quanto di peggio potesse accadere, possono essere una risorsa importante per questa squadra, possono davvero, io leggo anche le reazioni dei calciatori che stanno arrivando a Bari, stanno arrivando non come se stessero arrivando a una squadra di Serie D, ma come se stessero arrivando al Bari, punto, nel senso che arrivano in una società gloriosa, in una piazza gloriosa, non considerando il campionato di appartenenza, del resto ci sono dei sì, il ritorno di Breenza, la possibilità che venga, anzi l'arrivo di Bolzoni, Bolzoni è un giocatore che ha giocato sempre in Serie B, più ricordi, di Cesare, insomma andiamo su un livello altissimo. Per cosa riguarda la domanda del telespettatore, io penso che sia una cosa momentanea, sicuramente il Bari si farà conoscere, penso che non commetteranno l'errore di stare lontano dalla piazza dei tifosi, si faranno vedere, è momentaneo perché capisco la società, in questo momento sono in fase di allestimento, ci sono giocatori in prova e quindi i giovani specialmente da prendere, da valutarli e quindi è giusto magari che non abbiano questa visibilità, e quindi è giusto un po' di privacy. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci insieme con il Biancherosso TV Sport e con il nostro ospite il tecnico Sergio Notariale, impegnato con i ragazzi, con della NIC Calcio, anche quest'anno lì. Sì, abbiamo iniziato già da una settimana, abbiamo diversi ragazzi interessanti, speriamo di fare un buon lavoro, che i ragazzi si divertino, che siano bene e che migliorino sotto il profilo calcistico. Ma non ti torna mai la voglia di andare su una panchina di quella dove hai vinto peraltro tanto? Ho avuto diverse propose tutti gli anni, però una volta che ho detto basta ho deciso di dedicarmi ai giovani, preferisco dedicarmi ai giovani e non lasciare il mondo dire tantisco, è stato tanti anni, diciamo la mia casa quasi, che ho allenato per tanti anni in Serie D in eccellenza. Poi quando uno arriva e che si dedica ai giovani viene preso proprio da questi ragazzi e onestamente non mi è più venuta la voglia. Abbiamo una telefonata, prima però vi dicevo dei giocatori che stanno venendo con grande entusiasmo a Bari, da Instagram le parole di Andrea Feola che scrive eccoci qui come ogni anno ad imbarcarci su questo traghetto verso l'inizio della nuova stagione, dopo due anni lascio l'Obby alla Sardegna consapevole di aver dato tutto quello che avevo, di aver vissuto emozioni forti e conosciuto persone fantastiche che hanno arricchito la mia vita, ma altrettanto consapevole di aver ricevuto tantissimo da una città che non smetterò mai di ringraziare. Ora Bari mi aspetta e io non vedo l'ora di abbracciarla e di iniziare una nuova avventura di vita e calcistica con determinazione e voglia di vincere, sperando che questo percorso insieme sia pieno di successi. Grazie a tutte le persone che in questi anni mi sono state vicine e mi vogliono bene, grazie alla mia isoletta che avrò sempre piacere a riabbracciare. Queste sono le parole di Andrea Feola che ripeto ancora una volta arriva dall'Obby. Dicevamo dei grandi nomi, abbiamo detto Brienza, abbiamo detto Bolzoni, domani dovrebbe arrivare di Cesare. Una squadra fuori di questa categoria, non ha niente a che vedere con la Serie D, la verità quasi quasi potrebbe far benissimo anche in C, quindi per me i primi anni del Bari sono due anni di interlocutori. Ho dimenticato Floriano che è un altro giocatore. Floriano, che ha rescisso col Foggia e ha fermato col Bari. Bari è di passaggio, secondo me i primi anni proprio di passaggio, in Serie D, in Serie C il Bari sarà di passaggio. Piccoli problemi incominceranno ad arrivare quando arriveremo in B, sia per la proprietà contemporanea al Napoli e sia per la difficoltà del campionato. C'è una telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Mauro Giovanni, sono il mistero italiano. Enzo, una domanda, a parte il Bari, come si fa in Serie D che ci sono squadre che fanno 300 spettatori e devono andare a giocare a Gila, a Massara, ma così le squadre spariranno? Entro dieci anni quale squadre devono sparire tutti? Grazie per il tuo intervento. Vabbè, intanto questa è la D, siamo noi gli intrusi in D, in D ci sta che una squadra abbia 500 spettatori, che ne abbia 300, che ne abbia 1000, magari c'è qualcuno che neanche di più. La Serie D è quella, è un campionato di lettantistico. La federazione è stato un premio, la federazione ha concesso alle società fallite di ripartire dalla D, quando la società è fallita c'erano i regolamenti di quando partiva dalla terza categoria, quindi siamo noi gli intrusi, però i tifosi non stanno tranquilli, staremo un anno massimo in D, se facciamo la D e staremo secondo me a un anno massimo in C, poi in D in B incominceranno i problemi, però i primi due anni sono certo, da Laurentiis a potenza economica, a esperienza calcistica, data da Napoli chiaramente, carisma, quindi non ci dovrebbero essere problemi i primi due anni, un po' di pazienza. C'è una telefonata, pronto? Sì, ciao, buonasera, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Allora, volevo chiederti una cosa, per il discorso di domenica, erano un valibitonto, che probabilmente non ci dovrebbe giocare, nel campo del stadio San Nicola, però il Bari potrebbe andare a giocare in Cabo Nel, per esempio, un paio d'anni fatti, ricordi che andammo a giocare contro il Città della Dandria, potrebbe chiedere di giocare a Dandria in qualche stadio qui vicino, oppure fare le diversioni di campo, andare in Bari a giocare a Bitondo, perché se non sbaglio il Bitondo dovrebbe dichiarare se è disponibile a rimandare la partita o a giocarla, se puoi chiedere la notaria di questo discorso, per quanto riguarda la Serie D, grazie. La partita a quale fa riferimento è una partita con la Provercelli, giocata ad Andria, credo che signor Bellomo, uno o due gol addirittura, la ricordo nitidamente. La prassi di tutti i campionati, quando il campo non è disponibile si può giocare anche in campo a neutro. Per quanto riguarda il Bari, effettivamente Bari-Bitondo troppo vicino, poi la prima partita è la forza del Bari e quindi sotto il profilo dell'ordine pubblico ci potrebbe essere qualche problema, chiaramente l'ASA dovrebbe essere bravi a vendere determinato numero di biglietti e non far muovere la massa di tifosi, solo col biglietto, questa è l'unica strada secondo me. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Ciao! Sì, buonasera, ciao, sono Nicola, saluto l'ospite. Ciao! Volevo dire Enzo, riguardo la serietà di questa nuova società, praticamente io ho colto l'occasione per andare due o tre giorni a Roma dove ho alloggiato nel parco Telmancini dove si stava allenando il Bari. Guarda caso diciamo lei, infatti. Esatto, guarda caso. No, ero l'unico tifoso, chiaramente ho detto che ho preso l'occasione a volo e ho fatto una scappata. Quindi molta riservatezza, cioè nel senso, a differenza di Roccaporena quando si andava lì al ritiro dove tu eri lì in contatto proprio a pelle con i giocatori, qui invece mi è sembrata una cosa assurda, non ti potevi avvicinare. Però dall'altra parte dico che è una cosa seria e come di conseguenza è quella che stiamo vedendo adesso, c'è molta riservatezza, però non mancherà l'occasione subito di abbracciare il calciatore. Grazie, grazie per il tuo intervento. Sì, è giusto così, l'importante però è anche non esagerare, nel senso che poi alla fine non dimentichiamolo, siamo in Serie D e quindi un po' tutti quanti abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Stare insieme nei momenti di difficoltà forse aiuta anche a superarli. Questo non vuol dire che devono accadere situazioni di promiscuità come quelle degli ultimi anni che a mio avviso hanno fatto danno al Bari, però diciamo neanche esagerare con questa distanza, però come diceva Sergio Notariale è la fase di ricostruzione questa, è una fase atipica, probabilmente fra una decina di giorni avremo le idee più chiare sul modus operandi della società. C'è un amico in linea, pronto? Buongiorno, ciao Enzo. Ciao, buongiorno. Sono Aldo Tricasi, buongiorno. Ciao, ciao caro, ciao. Un saluto affettuoso a Sergio Notariale. Sono il maresciallo Tricasi. Ciao, ciao Aldo, come ti ricordo benissimo, come no? Ciao Sergio, senti Enzo, una cosa, vada per l'inversione di campo, vada per lo spostamento, ma perché, ammesso che si debba giocare a Bari, la partita si fa alle ore 15? Sono gli orari, credo sì, anche io l'ho pensato, perché in effetti fa ancora caldo, comunque è domenica ancora estiva, del resto in Serie B stanno giocando alle 21, benché vada alle 18, qualche partita, ma si gioca sempre quando cala il sole. Bella domanda, giusto, bisognerebbe girarla a chi fa i calendari, insomma, a chi organizza gli incontri e il campionato di Serie D, sono d'accordo con te, per me, ma c'è ragione, se si dovesse giocare a Bari, a Bari ci sono tranquillamente gli impianti di illuminazione. Enzo, so che con una richiesta specifica delle due società alla Lega, i Serie D sono molto elastici, io ho visto squadre che giocavano due ore dopo, chi alle 18, chi la sera, assolutamente sono molto elastici, quindi adesso non c'è l'organizzazione sia nel Bari, magari, non so, adesso è il Bitonto, per chiedere all'unisono un cambio di orario e magari si è un po', diciamo, il Bari sembra come se sei in attesa di qualcosa, no? Sì, non si muove. Non si muove, sta subendo, diciamo, le decisioni, l'orario, la copitalia, il girone. Zitto. Zitto in silenzio e vedere quello che succede, vedremo, in attesa di una bomba, no? Anche io ho questa sensazione. Anche io, l'abbiamo pensato in sì. Una strana attesa, un immobilismo, diciamo. L'abbiamo pensato in sì. E anche, se vogliamo, anche il mercato va nella direzione di una squadra a metà fra Lega Pro e Serie D. Esattamente. E se la ritocchi un po', può giocare tranquillamente in Lega Pro. Può vincere anche la C. C'è una telefonata, pronto? E' pronto, buongiorno Enzo. Buongiorno. Una domanda, ma secondo te quanto tempo ci vuole perché il Bari arrivi in Europa League? Quanti anni? Vediamo un po', DC, CB, BA, quattro anni, ragazzi, tranquilli. Tra quattro anni andiamo in Europa League, vediamo un po' che succede. Quattro Bari a cinque anni, vogliamo essere un po' ottimisti, vogliamo rincuorarci, insomma, per certi versi, perché, lo ripeto ancora una volta, comunque la botta è stata forte, perché non dimentichiamolo che noi, fino a un paio di mesi fa, eravamo in corsa per la Serie A, perché eravamo comunque ai play-off, un play-off che sembrava persino abbordabile. Poi è iniziata con la storia del pasticcio della penalizzazione, si è andata a giocare fuori, però quello era già un segnale di qualcosa che evidentemente stava precipitando. 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta, però prima di andare in pausa pubblicitaria volevo chiederti se tu hai conosciuto quel campionato un po' di anni fa, quando l'hai giocato da allenatore, che informazioni hai? Quali sono le squadre che secondo te, per una serie di motivi, per tradizione, per potenzialità, non dico che possono insediare il Bari, perché mi sembra di capire le tue parole che il Bari è tre spanne sopra gli altri, però le altre squadre che secondo te partono per vincere questo campionato? Secondo me Messina, per tradizione, per blasone, chiamiamo così, e Turris dal punto di vista tecnico, perché si erano preparati quest'estate a fare, da quello che so io, dalle informazioni che so io, a fare una squadra di vertice per vincere il campionato. Queste due squadre mi impaiono, poi nelle siciliane onestamente non ho tantissime notizie, conosco bene quasi tutti i campi dove deve andare in Bari, sono campi dove si può giocare, Marsala è un bel campo, si gioca benissimo, a Cireale si gioca bene, quindi… Non facciamola più nera di quella che è? No, assolutamente, da punto di vista tecnico il Bari va là, se merita di vincere, vince tranquillamente, io mi ricordo all'Ocri, l'ho trovato con Noi Cattaro, mi pare che tu seguivi il Noi Cattaro in quel periodo, lo troviamo in semifinale… Io sicuramente sono venuto a vedere il partito con la Vibonese. Noi troviamo anche l'Ocri, in semifinale di Coppa Italia nazionale, vincemmo 1-0 all'Ocri e mi ricordo che ci accosero, il pretendentissimo di Ivela lo so bene, con dolci, ma di tutto, ci è detto una festa, e vincemmo 1-0, poi fortunatamente perdemmo il ritorno 2-1 in casa, però fumo trattati… Qualificasto in finale, insomma? No, non l'accordo perché perdemmo 2-1 in casa. A 2-1 perché fessi in casa? In casa, ok, ok. Con 7 minuti direi che vabbè, ma sono sciocchezze e quindi fumo trattati benissimo, quindi non ci sono problemi ambientali, questo è sicuro. Io ricordo che quando si veniva in Cattaro fu un festa anche, omaggiavano di agrumi a Policoro, mi ricordo, è vero, nel dettaglio questa partita a Policoro, insomma abbiamo fatto un po' di questi campi, ricordo anche una partita, credo che fosse la finale regionale ad Aradeo, vicino Gallipoli, infatti, e là non fu proprio una passeggiata. No, no, una passeggiata. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci insieme con Bianca e Rosso TV Sport, sempre in compagnia di Sergio Notariale. Intanto vi annuncio che vanno avanti i lavori di rifacimento degli studi di Telebari, mostreremo un look nuovo sia per lo sport che per il telegiornale, per la stessa Radio Bari, quindi diciamo avrete piacevoli sorprese, peraltro per chi riguarda lo sport, sono in cantiere anche a trasmissioni, guardate come siamo noi, più Bari va giù, più noi lo sosteniamo, insomma, allungheremo la durata dei nostri programmi, dando anche delle particolari caratterizzazioni. Allora, scrive Francesco Paolo Antonicelli, è fatta per Bolsoni, abbiamo detto sì, dovrebbe raggiungere già oggi la squadra, le nazi con la squadra, Abrienza ha firmato sì, di Cesare sarà acquistato sì, tre sì, possiamo dire tre volte sì. Rino, secondo il mio parere andremo direttamente in Serie C, che ne pensate? Qui c'è il grosso punto interrogativo con il mistero di questo atteggiamento abbastanza sornione del Bari rispetto alle cose. Ci sono novità sul nuovo logo e inizio campagna abbonamenti? Non ancora, Claudio dice non abbiamo paura della D, ma solo e soltanto di ambienti ostili fuori casa che possano portare i ragazzi della Rosa di quest'anno ad aver paura e timore, che ne pensate? Sergio Notaraggio ha risposto, ha detto tranquilli, sono assolutamente ambienti più che sopportabili. Maurilio, secondo me della Renti sta facendo questa campagna acquisti importante perché sa di essere ammesso in C e che il 7 settembre il Coni riporterà la B a 22 squadre, che ne pensate? Pure noi stiamo zitti, come fa il Bari in questo momento, in maniera sornione. Vediamo gli sviluppi. Ok, come si gioca tatticamente in D, chiede Danilo? Il calcio è simile, il calcio è ovunque, conta la valenza tecnica, in Serie A c'è una valenza tecnica altissima, scendendo di categoria la valenza tecnica scende e la valenza agonistica sale, è questo che io dico, ma il calcio è uguale, si gioca con gli stessi moduli, con le stesse difficoltà, le stesse cose. Cos'è che una squadra che vuole vincere il campionato di Serie D deve avere assolutamente? Senti Enzo, io non mi permetto di dare consigli, però sono delle cose fondamentali secondo me, in Serie D, fondamentali sono che i giovani, i quattro ragazzi che giocheranno fanno la differenza, da là si parte e poi bisogna inserire qualche giocatore anziano, chiamiamole anziano, ma di esperienza, di categoria, che conosce la categoria e poi inserire qualche fuori classe, come sta facendo il Bari per la categoria fuori dalla portata. Quindi detto queste tre cose, il Bari non dovrebbe avere problemi. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Ciao. Ciao Enzo Pasquale da Bari, per l'ospito. Ciao Pasquale. Ti chiamai la settimana scorsa, inizio settimana quando hai cominciato il programma, ti avevo detto che c'è qualcosa che vola in pentola per tutta questa riservatezza, per tutta questa formazione di squadra, che comunque sto facendo, secondo me, una formazione già quasi per la C. Aspettiamo venerdì e poi vedremo, perché secondo me vediamo quello che succederà. E poi un'altra domanda, mai confermato a Capurso si alleneranno? Io credo che a Capurso si alleneranno la prossima settimana, da quello che ci risulta il Bari si allenerà al Tonino Rana, Carbonara, pare che sia questo l'orientamento per oggi. Peraltro il Bari cercava un campo in erbe naturale e il Tonino Rana ha questi requisiti. 080 501 9998 per la vostra telefonata in diretta, però ora apriamo una breve parentesi dedicata al Palacanestro, perché questa mattina presso la sala giunta di Palazzo di Città è stata presentata all'amichevole fra la New Basket Brindisi, squadra che gioca in A1, e la Mornar Bar, una squadra che gioca le Coppe Europee, Montenegrina. La partita si disputerà il 6 settembre alle ore 20.30 al Palaflorio di Bari. L'evento è organizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Palacanestro del Comune di Bari, sarà di ingresso gratuito. A tal proposito, credo che sia anche sostenuto economicamente dall'Outhead Village di Molfetta, sentiamo a proposito di queste gare, di questa partita, le parole del Presidente della FIP Puglia, Margarete Gonnella, e del General Manager della squadra Brindisina, Tullio Marino, nelle interviste realizzate da Michele Carofiglio. Presidente, motivo d'orgoglio per la Federazione Pugliese è ospitare per la prima volta il grande basket nel capoluogo? Beh, sì, per noi è veramente bellissimo poter ospitare il Brindis in questa prima uscita con una squadra montenegrina, competitiva, quindi per tutto il movimento barese ovviamente è un grande onore e siamo sicuri che risponderemo alla grande applaudendo chiaramente questa squadra che ormai è da un po' di anni che ci fa sentire protagonisti dello scenario cestistico nazionale. Come vi state preparando per questo inizio di stagione e soprattutto quali sono gli obiettivi reali del Brindisi? Beh, l'obiettivo reale è quello di vincere più partite possibili, questo lo dobbiamo fare per arrivare a quello che poi è l'obiettivo principe ovvero della salvezza, del mantenimento della categoria, della Serie A, obiettivo che da sette anni riusciamo a portare a termine ed è quello che per una piazza come Brindisi è il vero scudetto. Ci stiamo preparando in maniera intensa, importante dal 21 di agosto che la squadra si è radunata, questo è un periodo anche un po' noioso per noi perché vediamo una fase di preparazione atletica con molto meno basket giocato, dopo domani qui giocheremo la nostra prima amichevole dell'anno e finalmente avremo la possibilità di vedere ciò che abbiamo creato in estate sul campo per capire che cosa, per iniziare ad avere qualche indicazione sul puzzle creato in estate. Beh, Bari ha fame di grandi appuntamenti sportivi, a maggior ragione che diciamo ci siano giocati la Serie B, questi appuntamenti hanno una valenza particolare a tal proposito, voglio ricordare che stiamo per entrare nella fase dei mondiali di palavolo, avremo un girone spettacolare a Bari proprio a settembre con Stati Uniti, Russia e Serbia, domani l'evento verrà presentato al comune, quindi davvero grandissima palavolo maschile a Bari con un girone dei campionati mondiali. Poi vorrei fare complimenti al Circolo della Vela che sta collezionando grandissimi successi, Claudia 40 ha vinto, ha vinto il titolo italiano Optimist, quindi davvero complimenti a Claudia e poi c'è un'altra imbarcazione che ha vinto la Champions addirittura della Vela, quindi questo ci fa onore, non a caso il Circolo della Vela nelle scorse settimane è stato proclamato miglior Circolo d'Italia per il 2018. Bravissimi veramente. Ecco qua alcune delle, dal nostro sito, dal sito di Tere Bari, vediamo insomma questo trionfo targato Circolo della Vela. C'è una telefonata, pronto? L'abbiamo tenuto troppo in attesa, non è riuscito a resistere, va bene, va bene. C'è una caratteristica che però balza all'occhio di questo Bari, si è un po' persa la baresità, cioè si fa fatica a trovare elementi locali? Ma sì, io secondo me stanno facendo tante cose buone sicuramente questa nuova società, però un neo, se vogliamo trovare un neo, io mi sarei aspettato che la società si affidasse a qualche elemento barese, proprio che dia lo stemma proprio del Bari. Possibile che a Bari non ci sono elementi sia dal punto di vista risorse umane, sia dal punto di vista organizzativo, a parte i pedico naturalmente, però mi sembra troppo poco, e sia dal punto di vista anche tecnico, adesso voglio vedere il settore giovanile, come sarà organizzato, secondo me si parlava di Galli, ma è possibile che a Bari non abbiamo persone capaci di organizzare un grande settore giovanile? Sembra veramente strano. Io mi sarei affidato a qualche figura barese di grande professionalità, di grande competenza, non lo stanno facendo, spero che lo facciano. Anche perché così si viene un po' a sperperare una scuola, una scuola di allenatori, di ragazzi, di ragazzi. Uno che conosce il territorio per il settore giovanile, per i ragazzi da apprendere, avere a che fare con le società direttantistiche del circondario, con le società che lavorano da tanti anni nel settore giovanile. Secondo me ci vuole qualche figura barese e secondo me a Bari ce ne sono, basta cercarle, gente molto professionale, molto in gamba, che possa fare al caso del Bari. Io spero che si ravvedano e possano inserire risorse umane baresi nell'organico sia societario che tecnico del Bari. C'è una telefonata, pronto? Sì, Anzo, ciao, buongiorno Pierluigi. Ciao, ciao. Un saluto all'ospite. Io torno sul discorso di venerdì. Il collegio di garanzia, se dovesse riproporre la C22, automaticamente il Bari fa la C? No, è tutto da discutere, però diciamo che si libererebbero dei posti in Lega Pro, delle caselle vuote e quindi magari a quel punto le possibilità potrebbero aumentare, però guardate, non è un discorso automatico, è soltanto una volontà politica, come spesso accade nella vita, la politica va oltre ogni regola. Qualcuno mi chiedeva come me la Juventus B ha potuto fare riscrizione in Lega Pro, ma lì era la regola che lo consentiva, c'è stato detto che le squadre B delle società professionistiche sarebbero partite dalla Lega Pro, era già tutto scritto, in questo caso non c'è nulla di scritto, bisogna scriverlo e bisogna scriverlo con un provvedimento, ripetiamo ancora una volta, straordinario, giusto? Non c'è una regola che dice che ci sono altre anche società che hanno tradizioni, che vorrebbero farla C? Era un caso, il sindaco De Caro è stato astuto l'altra volta perché ha fatto un discorso al nome delle grandi piazze. Io sai Enzo, sono fiducioso solo per una cosa, siccome c'è un grande caos del tutti contro tutti, in federazione, in Lega, o scontentano tutti o accontentano tutti questo discorso. E allora in mezzo a questo caos potrebbe tirare fuori questo provvedimento che potrebbe favorirci. Ho 30 secondi ma voglio cogliere l'occasione, consiglio notariale, che tra i tecnici che hanno vinto di più a livello direttantistico tra i tecnici baresi e uno di quelli che ha vinto di più a livello direttantistico, però fa un discorso a 360 gradi. In che direzione sta andando il calcio secondo te da un punto di vista tattico? Perché ogni anno abbiamo delle variazioni sul tema, prima vinceva il tiki-taka, ora vince la squadra e tornata vince la squadra che gioca in contropiede, la Francia è mondiale. Qual è secondo te la tendenza che vedremo? La tendenza è di privilegiare un calcio, vedo anche ad altissimi livelli, molto fisico. Adesso giocatore fisico, ma anche il settore giovanile, sai Enzo, vedo le grandi società prendono i ragazzi, quanto è alto? 1,80? Bene, 1,90 portiere? Bene. Se sei 1,60 ma bravo, non ti guarda nessuno. E vedo che anche le grandi squadre stanno molto, molto, molto puntando sulla fisicità e questo secondo me è un errore, si dovrebbe puntare più sulla valenza tecnica, sulla valenza tecnica. Per quanto riguarda, è detto bene, si va verso un gioco fatto sparannino, un gioco fatto di molta copertura e di contropiede. Grazie a Sergio Notariale, grazie anche a voi, a domani con il Biancherosso TV Sport, ciao!